Benvenuti in questo nuovo video, oggi come vedete siamo con il terzo posto del torneo europeo di One Piece Card Game tenuto ad Utrecht abbiamo con noi Antonino Borzi, meglio conosciuto come Nino salutiamo Nino e ringraziamo per essere venuto qui ad offrirci questa intervista per me è un grande onore intervistare questo grandissimo giocatore non è la prima volta, ho già avuto l'occasione di farlo durante i vecchi regional e treasure cup che si sono tenuti mi sembra a Barcellona e anche a Bologna in cui ha fatto degli ottimi risultati quindi diciamo che è un giocatore molto molto esperto e lo vediamo appunto dal risultato che ha fatto in questo europeo quindi con noi il semifinalista dell'europeo di One Piece Card Game Nino Borzi prego un saluto alla community grazie come ci si sente ad essere arrivato terzo in questo torneo enorme diciamo perché è un torneo da più di 2000 partecipanti molto importante, forse penso il più importante che abbiano realizzato fino ad ora ed essere arrivato terzo secondo me è un traguardo davvero molto importante come ti senti, come commenti questo podio? è il più grande che credo si chiama mai fatto pure perché sono 2560 persone alla fine, ci sono state invece in America sono arrivati a 1800 hanno lasciato posti voti, non ho fatto iscrivere, non c'era waiting list e nulla quindi prende a 1800 e sono fermati perché anche lì c'era un potenziale alto di capacità comunque non mi sento ma allora ovviamente sono felice perché c'è sempre un risultato importante soprattutto ovviamente pensando che io è il mio primo gioco di carte se non ho mai gioco da nessun altro gioco e comunque ho iniziato l'anno scorso ho fatto il mio primo evento competitivo a Birmingham l'anno scorso e raggiungere ovviamente questo risultato in solamente un anno vuol dire che comunque i sacrifici, tutti gli sforzi messi nel gioco ci sono stati ripagati hanno dato i loro voti ovviamente rimane sempre l'amarezza sia per me anche per l'altro ragazzo italiano che saluto per Mirko purtroppo siamo arrivati a una partita alla finale il bello è che quando eravamo in 2-64 ci siamo ripromessi oh vedi che siamo nell'altro bracket non facciamo scherzi ci arriviamo in finale, ci arriviamo in finale e c'eravamo quasi arrivati eravamo una partita da farci la finale veramente e andarcene in Giappone insieme sarebbe stato veramente un sogno però purtroppo entrambi siamo stati fregati dal cronometro perché entrambi abbiamo perso allo stesso modo e non siamo potuti arrivare purtroppo in finale quindi il sogno mondiale in Giappone è svanito il prossimo anno tra l'altro dovrebbero anche aumentare i posti per i mondiali i posti per il mondiale cioè quelli che vanno il prossimo anno saranno di più non saranno solamente 2 in Europa faranno più eventi magari saranno 4-8 non si sa precisamente ancora però sarà un mondiale più grande che ora è da 16 persone il mondiale mi sa si qualificano 10 in Asia poi 2-2 in America del Nord e in Europa un in Oceania e un in Latin America ovviamente la mare rimane sono stato tutti i giorni comunque dopo il torneo ero sempre lì che ci ripensavo ci ripensavo però più come fida la partita perché era una partita che avrei vinto proprio cioè io non lo dico perché ero io in quella posizione lì però ovviamente basta chiedere anche chissà quando la partita da dietro era una partita purtroppo vinta persa per conteggio vite al tempo e quindi niente cavolo in quelle situazioni non puoi farci niente cioè è brutto comunque cioè però fa male fa male ovviamente non andare al mondiale per questo motivo però vabbè però dai il prossimo anno per riprovarci sempre se continui con questo ritmo sono sicuro che i risultati ti farei lo stesso e magari ti vedremo anche al mondiale il prossimo anno tanto le perché poi ovviamente la cosa brutta nemmeno un italiano è riuscito ad andare al mondiale dopo l'annata che hanno fatto in Italia infatti quello che in anni penso sono i giorni più forti più vincenti nell'anno e purtroppo nemmeno uno c'è andato quindi niente è strano sta cosa comunque cioè c'è un'aspettativa altissima anche gli spagnoli forse no ma gli spagnoli però hanno perso un po' nell'ultimo periodo era molto sì c'erano qualche player forte tedesco francese che poi quello che ha vinto quello che ha vinto tedesco è quello che ha vinto invece Sondoposto è Croato che è un ragazzo veramente molto 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 quindi Arvoi c'è molto molto forte lui bene quindi adesso Nino ci racconterà come è andato europeo ci riferirà come è andata la prima giornata quella che ha deciso la qualificazione poi alle finali e poi ci racconterà dei matchup che ha incontrato durante la top fino all'ultima partita la partita decisiva e dopodiché ci farà una bella analisi delle sue del suo mazzo quindi se volete prendere spunto è un ottimo modo appunto guardando il mazzo di Nino che attualmente in Italia è uno dei più forti se non dire forse i più forti ma comunque sappiamo che non sono solo le carte a fare di un mazzo forte ma è il giocatore stesso che deve essere molto bravo e in questo caso Nino lo sta dimostrando molto quindi prego raccontaci la tua avventura noi ascolteremo con molta gioia il giorno 1 erano 10 round e poi il giorno 2 si dovevano fare altri 2 round per la top cutter che in totale erano 12 infatti da noi c'erano 12 round molto molto più pesante come torneo che per esempio quello che hanno fatto anche in Nord America dove tu partivi con 2 round di buy con 8-2 già eri dentro invece noi dovevamo fare 2 win in più quindi 10-2 comunque non è facile da fare infatti speriamo che daranno anche a noi magari una qualcosa simile perché sennò comunque è sempre una run complicata stressante molto molto stancante comunque allora i miei matchup sono stati il giorno 1 sono stati 5 Sakazuki Mirror 3 Enel un Katakuri e un Parpo Luffy sai che ho iniziato il primo round ero un Parpo Luffy che aveva un matchup comunque che boh di base la saga parte sopra però dipende anche da come vede Parpo Luffy perché sono i Parpo Luffy è un mazzo che se vede le carte che deve vedere bene in curva è molto difficile salirci dietro perché va 10 volte alla tua velocità quindi non è molto facile comunque come matchup per niente scontato anche se si dice che Luffy cioè che Saga sta sopra però in realtà contro Luffy Parpo Luffy veramente forte Saga sta sopra un 55-45 e alla fine matchup dovevo vedere più Undblaze possibile più rimozioni perché devi aggredire e rimuovere Undblaze ti permette sia di aggredire che rimuovere perché da più 3k un pezzo e in più ti rimuove anche un pezzo dell'avversario e poi vabbè i Mirror che erano quelli che volevo beccare ho detto i giorni prima la gente diceva eh buona fortuna giocare Saga farti 10 Mirror gli ho detto guarda spero di beccare 12 Mirror sì perché sono mi sento molto molto confio anche i Mirror anche questi giorni sto giocando comunque qua Mary Local i Mirror sì sono veramente molto forti anche grazie al testing che ho fatto di team ho fatto un testing di team quindi di gennaio una settimana sono venuti i ragazzi e lo è stato molto e l'ha veramente masterato molto il matchup ho capito varie varie robe quindi sì perché all'inizio niente non ero cioè all'inizio il fatto che tu giochi il mazzo quando giochi Sakazuki all'inizio e non vedi molto in generale quando non hai il mazzo tuo cioè non fai il mazzo tuo quindi non vedi alcune giocate e tutto perdi e pensi comunque avevo l'ha pescato meglio invece in realtà sì ci sono quelle partite che l'altro pesca meglio va secondo e comunque avvantaggiato e tutto e perdi però in realtà molte volte anche quando tu hai mani brutte sei anche sotto di carte puoi trovare sempre Redale e vincere le partite cioè ci sono partite che tu dici questa volta la perderei sempre invece non è vero potresti comunque trovare sempre una maniera per vincere poi altri matchup vabbè giallo in generale ho beccato da Betranel e un Katakuri e poi il giorno dopo ho beccato un altro Enel quindi vabbè cinque gialli fai ho beccato in totale e niente vabbè contro giallo giochi un po' per questo dicevo che l'ho beccato dici Miro perché giallo non lo vuoi mai beccare in realtà che alla fine di Miro magari puoi skill appare l'avversario puoi giocare molto di skill e tutto anche con altri matchup però contro giallo alcune volte boh cioè speri che magari sei sopra stai vincendo e poi arriva un trigger suo dall'ultimo così e ti finiti e ti decide la partita per questo infatti c'è molto questa questo fattore random contro giallo che non piace e quindi è un problema quando giallo è un t1 nel meta che può rovinarti comunque diciamo un torneo come è successo anche ai miei compagni di team che lo beccati magari una o due partite sfortunate contro giallo perdono quelle due partite magari poi chiudi x3 non entri per rating sei fuori cioè troppo giallo è un problema quindi per questo dici preferisco giocare quando i mazzi fanno quella cosa ok cioè ci gioco lì ci skillo che magari un mazzo che mi fa tipo random mi prende dei colpi di fortuna incredibili e perdo capito quindi anche quello bisogna stare attenti poi comunque ti dico che ovviamente c'è il day 1 è durato fino alle 10 e mezza io mi ricordo gli ultimi round ero veramente stanco cioè ma è anche molto complicato concentrato soprattutto nei mirror gli ultimi round o anche magari beccare giallo cioè tipo devi stare straconcentrato perché non puoi sbagliare una mossa e quella fa tanto cioè comunque ora magari porto un local faccio 4 round boh a posto però fare 10 round in un giorno è stato veramente veramente pesante ma tipo il giorno dopo per esempio io ho chiuso il day 1 9-1 poi il giorno dopo ho beccato primo round un Enel secondo round un Zoro tra l'altro un mio amico purtroppo che siamo con la maledizione io e lui che ci può beccare sempre e ci roviniamo all'evento o uno al e Castellani contro Castellani purtroppo mi sono beccato infatti mi è dispiaciuto là dopo la partita sono stato abbastanza giù perché è proprio l'ennesima volta ci becchiamo sempre se uno deve fare top o si rovina il torneo c'è assurdo perché purtroppo ho persi la prima contro Enel che è stata quella partita che tu ti siedi vedo su 30 carte 0 lucci lui mi ha fatto doppio doppio home cane nel rush doppio chiamato ovviamente io non ho visto un lucci ho rimosso solamente di home blaze ma vai troppo sotto di carte non fai board se non hai lucci quindi niente l'ho persa e la decisiva è stata quella purtroppo contro Nico che lui giocava a Zoro e contro Zoro è un matchup bruttino cioè allora è un matchup che se un sacco che non ha masterato perdi sempre cioè se non ti sei allenato veramente e ti è stato tantissimo contro perdi proprio se non sai alcuni spot quando prenderti le vite quando counterare e tutto hai perso subito e poi ovviamente anche un matchup che se tipo non vedi che ne so terminate carte esempio non vedi nemmeno un lucci e non è bello la partita per esempio contro cast abbiamo visto entrambi molto bene io sono andato secondo ho vinto il dado e ovviamente avevo andare secondo certe delle volte poi ci sono alcuni Zoro che vogliono anche primo dipende come l'hanno buildato il mazzo però mi trovo meglio se andando secondo quella carta in più cambia il matchup cioè cambia scusa cambiala un pochettino comunque l'early game che è quello là dove devi resistere la pressione dell'avversario in early e di altri invece il mirror il mirror ovviamente può andare secondo sempre se non vai secondo io forto attento ovviamente se andavo primo avevo messo pilaf che mi rimpiango di non averlo messo a tre copie perché in realtà lo giocherei ora per esempio sempre a tre copie gli ultimi giorni che ho fatto il silo che l'ho sempre giocato contro il pilaf ed è veramente fortissima c'è una carta che se tu vai primo già fai un pilaf pareggi lo svantaggio che hai contro l'avversario se fai un secondo pilaf già vai sopra l'avversario quindi per questo che alla fine è un matchup molto di risorse e quindi più pilaf fai più risorse hai di lui dell'avversario perché puoi fare anche dei turni dove fai pilaf pulisco la board dell'op e quindi cioè vai molto più sopra di risorse dell'avversario quindi sì costo tre che ti permette di pescare due carte e soprattutto è forte anche se la prendi dal trigger perché ti fa attivare l'effetto senza pagare se la trigger è fortissima su 12 round l'ho trigata solo due volte una volta in un mirror è stata forte però andavo già secondo lì e poi contro un enel però già stavo molto sopra quindi non mi è servito il trigger in realtà vabbè ci stanno giochi due su 12 round magari ti può capitare che ti fai qualche trigger di pilaf quindi anche quel fattore lì anche per quello è anche molto forte è quel fattore random tipo comunque aiutare non è un pezzo come magari thunderbolt o robe varie di giallo però però in certe occasioni è molto utile fare due carte pulite fai un bel draw clean comunque non è male ok quindi questa era la tua prima giornata diciamo no? la svizzera che poi fita quindi 10-2 ok sono entrato la 20 non mi ricordo la 24 non mi ricordo quando sono andato precisamente in Svizzera quindi non vorrei dire una cavolata però comunque sono entrato in top e in top cut i match up sono stati il primo è stato luffy purple in stream sono andato dopo gli stream con luffy purple è stato molto divertente perché è stata mondo game per come è finito no è per la cosa che gli ha fatto un po' l'abeitata però in realtà lì comunque ero pieno di counter avrei parato comunque i pezzi li avrei chiusi il turno dopo che so che lui non aveva troppi counter da quello che avevo capito pure però è stato divertente non mettere magari la cosa è stata che apprende io non misi un borsa ma misi una rebecca lui così mi ha fatto il kaido 9 sulla rebecca per spaccarmi per andarmi tutto faccia e io ovviamente gli ho baitato tutta la giocata cioè nel senso gli ho proprio chiamato quel kaido perché sono andato sulla trash e ho visto se avesse il kaido e gli ho chiesto ovviamente se avesse trashato quel kaido di queen il turno prima che lui infatti il turno prima non aveva fatto nemmeno l'effetto di kid perché voleva arrivare a 9 don e farmi kaido quel turno quindi io ho capito che lui mi aveva giocato kaido cioè era sicuro me l'aveva trashato non aveva fatto l'effetto per andare indietro di don borsalino buttore becca magari va tutto faccia il turno dopo ho vinto perché comunque lui aveva abbastanza attacchi vorreva 5 7 7 10 io una vita avevo 6 carte in mano quindi lui comunque ha detto un 7 magari entra e invece no perché ero pieno di canter perché quella partita era stata una partita dove avevo pescato solo 2k e quindi facevo trash 2k quindi ho detto vabbè dove giocare una diversa infatti per esempio in quel caso alcuni io non so nemmeno il timing in quel momento alcuni hanno detto preso il leader per leggere l'effetto pensavano che io stessi perdendo tempo non è vero proprio completamente complicente volevo baitarli il fatto che mi attaccasse perché ho fatto volevo assicurarmi che il leader comunque il don che entrasse di quando dipendi la vita fosse attivo quindi non so per niente però ovviamente la gente non giocando non sa molto quelli che guardano un po' queste partite non sono molto informati sul gioco si vede e quindi era così poi a parte questo niente poi ho beccato dopo un mirror top 32 che ho vinto abbastanza tranquillo è stato quel mirror mi ricordo comunque che è stato uno di quei mirror che dice vabbè skill gap l'avversario è buono che per esempio la stiamo 1-0 da primo poi seconda partita lui sempre va secondo perché lui dice deve il dado la seconda partita già in realtà l'avevo vinta semplicemente ho fatto una grande cavolata perché ho paura che mi buttassi il cato 10 non ho tracciato i sage ma ho tracciato un 2k e sono andato sotto alla sua un blaze con Rebecca da 8-8 perché ho detto là non proverà mai a picchiarmi perché comunque avevo usato 3-hand blaze non ce l'avrà vabbè lì bastava mi tenessi il 2k in mano c'era la partita finita era un 2-0 da primo ecco comunque era la giornata che dovevo fare in realtà poi ho sbagliato la seconda poi è stata abbastanza tranquilla cioè la terza partita per il terzo game è stata abbastanza tranquilla poi dopo in top 16 ho beccato Zoro e anche lì stream che c'era il feature match pure contro Zoro contro Fabio no no contro un spagnolo contro Nacio ragazzo ha vinto la prima 3 ok contro Nacio molto tranquilla è andato quel game diciamo che ho vinto 2-0 per quanto Zoro è molto complicato per il matchup quelle due partite sono state abbastanza tranquille perché boh secondo me c'erano delle play magari che lui poteva migliorare alcune volte quindi io poi ho visto il Lucci per pulirgli la board però non so non ho avuto molta difficoltà la seconda partita ho pescato abbastanza 2k in early quindi gli ho bloccato la pressione iniziale ho pescato tipo 3-2k in early che alla fine si vede in early sono molto forti però comunque lui entrambi ha visto God cioè lui mi ha messo tipo full board full sercini Zoro Rush Rufy Rush tutto mi ha buttato quindi di là ovviamente la prima partita è stata decisa dal fatto che gli ho scartato un borsalino a 7 ne avevo due in mano e gli scarto borsalino a 7 non penso mi butterà Marco il turno dopo solamente perché avete il borsalino scartato però l'ho ovviamente invitata e lui il turno dove mi ha buttato Marco e quindi il turno dopo io con 3 vite ho messo 8 don mi ha fatto buttare 8 don con 3 vite è un borsalino 7 che è una carta che comunque cioè questa carta qua nel matchup proprio non la giochi mai contro Zoro eh sì sì perché non puoi c'è troppa versione solo contro Marco è un borsalino 7 con 3 vite e lì la partita è finita perché c'è cascato ovviamente alla bettata del scarto un borsalino poi vabbè si è beccato il borsalino sul Marco che poi lì comunque non lo fa nemmeno perché comunque ti rischi sempre una ina un blaze vabbè che ne ho fatto già uno mi sembra però comunque forse a velia è un blaze c'è una partita che ne ha avuto anche 4 ovviamente pescando con borsalino pescando di leader puoi avere anche 3-4 a partita quindi di base non lo metti su nome Marco in quello spot lì poi ovviamente se non te lo rimuove vinto la partita cioè se lì non ti rimuovo Marco vinci però se te lo rimuovo con un borsalino è brutto è molto brutto poi dopo top 16 top 8 che ho fatto un mirror con un ragazzo portoghese molto molto forte mi ricordo infatti per esempio in top 8 la partita è stata molto più difficile della top 4 della semifinale che poi ho perso al tempo cioè il player era molto 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 forte infatti ho fatto dei bei mirror proprio bei mirror diverti molto skillati belle giocate da entrambi le parti e poi lì ho vinto 2-1 e poi top 4 contro il tedesco che poi ha vinto il torneo contro Fabian e lui aveva vinto pure molto forte ovviamente si è visto anche Stimung perché è molto forte però purtroppo lui si è fatto top 16 mi sarà top 16 top 8 top 4 tutte al time se l'è vinte si è finito un mirror in top 16 al time al top 8 in stream contro la mia al time e top 4 anche lì comunque deve essere bravo quando ti cappello lui se l'è meritato perché là comunque deve essere pure tu furbo in quei momenti lì adesso sei più furbo dell'avversario e saper sfruttare anche queste dinamiche dove magari l'altro è più impreparato e poi niente poi dopo ho beccato Mirko nella finale terzo quarto posto che abbiamo avuto anche il time limit e abbia fatto la prima partita la vince lui la seconda la vinco io poi startiamo la terza ai turni che poi la finale eva il eva il no time limit cioè era limitato fino a quando non finivano i game ok invece la finale terzo quarto posto c'è il time limit anche lì cioè sia la sinistra che quella finale comunque non dovrebbero avere il time limit comunque iniziamo comunque i tempi e che succede praticamente ovviamente lui inizia perché ovviamente da pepeschi una carta in meno e come funziona che ovviamente lì hai turno 0 lui turno 1 poi turno 2 lui con 3 donne e poi turno 4 io con 4 donne abbiamo entrambi i due turni di attacco chi rimane a meno vite perde per parole ok quindi ovviamente l'obiettivo è pescare i 2k cioè mullicare ai 2k e ovviamente pararsi quell'attacco che lui mi avrebbe fatto da 8 o da 9 se magari aveva un handblaze e poi fare l'attacco da 9 io nel mio turno o magari da 10 se avessi avuto l'handblaze ok e quindi che succede vabbè lui turno 1 trascia e lì ovviamente trasciando pareggia il mio conteggio di carte perché andando a secondo pesco una carta in più e lui però ha trasciato perché gli servono i counter se no ovviamente il mio 9k gli entrava e non poteva parare quindi lui trascia perché va carta bianca gli servono dei counter e passa poi vabbè io a 2 donne non faccio nulla passo non trascio nemmeno lui a 3 passa non mi picchia e io a 4 donne faccio 9 faccia e lui countera fa 2000-2000 quindi che succede praticamente contano il mazzo pari contano le vite cioè contano le vite ma contano le vite 4 e 4 quindi pari contano il mazzo pari quindi che succede si va al sudden death mai successo perché poi era vite carte e board quanti pezzi ha in board ok entrambi io entrambi non conoscevamo queste regole perché allora cioè lui che sapeva che andavamo al dado lui pensava ricordo Mirko pensava che si tirasse il dado perché dicesse il vincitore io pensavo più carte in mano mi sembra infatti gli ho detto perché non mi ha fatto attacco da 8 perché ora più carte in mano vinco invece non era nemmeno così cioè non sappiamo queste regole mi fa al sudden death prende il primo a prendersi la vita perde quindi lui ha il turno a 5 donne mi fa 10 faccia io paro 2000-2000-1000 si poi lui mi fa io gli faccio 11 faccia lui prende e vinco però qual è il problema che allora 1 lui ha 8 donne ha 3 donne poteva picchiarmi da 8 e mi avrebbe tolto 2-2k e io senza 2-2k non potevo parare il suo il suo 10 dopo però allo stesso momento io ho sbagliato perché potevo vincere senza andare al sudden death che bastava che il mio turno con 4 donne piazzavo un azzuro a terra con un donne e vincevi per carta in board nel campo capito quindi lì proprio abbiamo sbagliato entrambi però ovviamente là il fatto che io ero più country mi trovo in vantaggio però certo c'è di gioare queste partite così quindi anche se lui comunque mi avessi picchiato lì da 8 io là bastava che mettevo un pezzo in board e vincevo cioè là non sapevamo le regole entrambi come gli stupidi sì ma però anche lì questa cosa del time lo devono mettere pure in semifinale cioè nella vostra partita è un po' cioè un po' brutta come cosa infatti proprio abbastanza brutto che ti stai giocando il terzo posto eh sì 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 per la fortuna comunque eravamo amici italiani che ci conosciamo infatti lo saluto Mirko che è un bravissimo ragazzo e noi comunque vabbè ci siamo trovati lì abbiamo fatto due mirror molto intensi veramente due mirror ben giocati però anche comunque in amicizia abbiamo fatto abbiamo giocato quindi comunque doveva essere la vera finale però non è potuto essere purtroppo vabbè quindi così è andato bene beh sarebbe stato bello aver visto due italiani nel primo, secondo e terzo posto forse era quello che era bello sì sì nel primo e secondo due italiani sarebbe stato molto bello sì sì era quello che comunque vi sareste meritati cioè nel senso tutti i risultati comunque li stanno facendo gli italiani cioè si vede anche però vabbè purtroppo gli abbinamenti sono stati quelli ho preso del tempo in semifinale che ci ha fregato entrambi perché se io anche Mirko credo che avrebbe vinto la partita io non ho studiato la stream non l'ho vista poi la partita sua però da quello che ho sentito anche lui se non ci fosse stato il tempo se la sarebbe portata a casa quindi è stato un peccato eh vabbè eh sì va bene comunque mi stai facendo capire che è stata una bellissima esperienza no ovviamente è stata una bellissima esperienza anche il seguito dopo comunque è stato molto bello ci hanno riempito di premi quindi comunque sono stati sempre contenti per come è andato il torneo poi ti ripeto comunque io senza esperienza per nessun gioco venendo dal nulla totalmente fare questo risultato comunque dopo un anno solamente di gioco è stato veramente un grande traguardo per me diciamo che sei portato al 100% a questo gioco non so perché non ho giocato a tutti qui prima però vabbè non hai giocato? no perché non ho mai giocato a giochi di carte prima ah ok ok sì infatti ho iniziato solamente perché volevo collezionare One Piece non volevo mai giocare al gioco di carte mi ricordo il mio primo local sono andato col tappetino di carta dello starter quella tipo di Luffy e non sapevo giocare cioè io volevo solamente le promo quelle che davano al negozio poi ho conosciuto ragazzi cosa ho detto ah vabbè ma c'è una bella community gente simpatica almeno come hobby lo potrei prendere comunque qua alla fine non è che facevo tanti hobby non è che avevo tantissimi hobby uscivo tutto ora invece per testare allenarsi non esco nemmeno più quindi ho tolto l'uscita il fine settimana però vabbè faccio volentieri comunque porta risultati si si è comunque una bella soddisfazione conosci tanta gente penso che siano nati molte amicizie anche anche quello comunque bello conosci comunque un sacco di persone fare nuove amicizie tutto comunque tra la community italiana che c'è veramente una bella community sono contento sono contento per te e per il tuo risultato innanzitutto beh Sakazuki l'ho scelto perché è il mazzo più consistente sono del formato se devi andare a un evento da 12 round cioè non credo ci sia un mazzo migliore da portare soprattutto ripetendo devi fare comunque quel risultato dici due Sakazuki sono me era il miglior mazzo poi come dicevi anche tu Kikko che hai detto anche prima col fatto che tipo comunque è un mazzo che non sono solamente le carte ma anche il pilota infatti si è visto questo weekend ha dato ragione a queste diciamo affermazioni perché si è visto come negli altri continenti comunque hanno vinto un luffy purple un enel un altro luffy purple mi sembra no si due enel forse hanno vinto non mi sbaglio comunque lo sai che Sakazuki scomparsi perché secondo me ovviamente io lo ribadisco che in Europa penso sia la regione molto più complicata molto più forte di altri continenti e anche per quello infatti la top 4 ha solo Sakazuki perché secondo me Sakazuki se viene giocato perfettamente non può perdere una BO3 contro Enel non può perdere una BO3 contro Katakuri non può perdere una BO3 contro Purple Luffy quindi ovviamente i mazzi che hanno vinto che non siano Sakazuki negli altri paesi è perché secondo me i giocatori di Sak non hanno giocato perfettamente i vari turni i vari spot e quindi non hanno interpretato bene alcune giocate per poter vincere e quindi avere una top 4 solamente Sakazuki in Europa significa che probabilmente siamo la regione più skillata nel gioco al momento comunque partiamo dall'analisi del mazzo vabbè il mazzo intanto partiamo dai counter 2000 che si giocano nel mazzo sono Tashiji e Tsuru sono quelli standard che ovviamente vabbè giocano tutte le liste almeno 8-2k e giocano questi due perché sono searchabili da Brenio poi ovviamente hanno anche un effetto molto forte che danno almeno 2-1 pezzo e molte volte possono essere anche utili per rimuovere qualche minaccia l'avversario io ho voluto aggiungere un nono counter 2000 solamente perché stavo vedendo un'ondata di Zoro arrivare quindi avevo paura di essere senza counter per Zoro ho detto se non vedo quei 2k all'inizio magari soffro e quindi meglio avere un 2k in più e avevo scelto il soldatino il soldatino l'ho scelto perché comunque quel meno 3 di riduzione di costo mi sembrava molto forte poteva essere utile in alcuni spot che avevamo analizzato e quindi ho detto boh magari ci può stare l'unica cosa che il soldatino comunque tra i counter 2000 che potevi mettere nel mazzo in più è quello più forte probabilmente di effetto però non lo puoi né cercare e non lo puoi nemmeno riciclare di Rebecca mentre per esempio Bartolomeo ha un effetto comunque forte che è un blocker e lo potevi riciclare di Rebecca e l'altro counter 2000 che potevi mettere era Vergo che diciamo che è quello là che dà forse più consistenza al mazzo perché sia riserciabile di Brennu sia comunque riciclabile di Rebecca però non lo piazzi mai a terra perché l'effetto che ha cioè non penso ti trovi nello spot di giocarlo Vergo e a parte di questo quindi vabbè sono 9-2k poi il mazzo è un mazzo che fa molto affidamento ovviamente su tre carte ruota attorno a tre carte che sono Rebecca e Inalucci che ovviamente Saka venne chiamato con questa build in Giappone Saka e Inalucci per questo motivo perché ovviamente ha questa combo che è molto molto forte con Rebecca ovviamente tu puoi prenderti la Ina dalla 3 c'è un altro pezzo puoi giocare tutti i giochi spesso sempre Ina se ce l'hai se non ce l'hai ovviamente magari forse costa fare un soldatino oppure un azzuro perché devi abbassare di costo oppure poi puoi cercare anche di Brennu e poi niente poi vabbè fai Lucci e spacchi i pezzi perché potenzialmente Ina da un meno 4 il leader da un meno 1 puoi spaccare un costo 5 e un costo 3 con Lucci successivamente abbiamo vabbè il reparto ammiragli il reparto marina diciamo del vabbè dato il sercine che mi sono diventato che ovviamente è le carte diciamo cuore di questo mazzo il core che ovviamente vuoi sempre vedere a turno 2 se vai secondo ve lo vuoi sempre vedere anche se vai primo però se vai primo nel caso non vedi Brennu puoi avere anche Sanjipilaf che comunque 3 don soprattutto in mirror la fai anche più di Brennu perché è veramente veramente forte ti permette comunque di pescare 2 carte è un draw pulito quindi ti rimette comunque di arrivare alla combo ad altre carte più dell'avversario poi abbiamo vabbè come dicevo prima il reparto ammiragli del mazzo che sono vabbè i 3 Kuzan 4 i 3 Borsalino 4 blocker e i 3 Borsalino invece 7 che sono i removal allora vabbè dei Kuzan c'è da dire Kuzan non messi 3 semplicemente perché io volevo stare tranquillo se avessi beccato giallo nel matchup contro giallo Kuzan 4 se rimane a terra ti fa vincere il matchup da solo perché è troppo forte e quindi è una carta che non la volevo mettere a 2 anche perché Kuzan 4 non è forte solamente contro giallo ma anche per esempio in mirror c'è comunque vari spot è una carta che è forte in molti matchup solamente contro Fivarpo la trasci perché non la giochi perché sta sotto ai paoli quindi non non è una carta che impiazzi di base a terra Kuzan 4 che comunque è una carta che ti fa capire cioè che capisci veramente quanto sia forte quando inizi a giocare il mazzo rende pulito quando lo fai tuo quando lo piloti perfettamente e dopo abbiamo Borsalino che l'altro mi ha detto blogger immortale carta fortissima non so cosa c'è da dire ovviamente sì sì è una carta che parla un blog immortale purtroppo contro giallo non è più forte come prima perché va sotto Amaru gli hanno dato purtroppo questo evento molto forte a giallo in OP5 però vabbè ci sta perché sennò ovviamente c'è piazza di Borsalino non avevano removal cioè giallo diventava un buy a quel punto invece comunque gli hanno dato una carta che ti fa sempre soffrire contro giallo perché con Camaru senza Amaru giallo penso che sarebbe veramente match up molto facile e l'altro invece a Miraglio invece l'ultimo è sempre un altro Borsalino però in questo caso il nuovo Borsalino che è uscito in OP5 il removal che è costo 7 rimuove botta un costo 4 meno ed è una carta molto molto forte soprattutto in Mirror anche contro per esempio giallo perché ti rimuove pezzi grossi in combinazione con Ice Age o Greater Option e quindi metti un combo di 8000 a terra e fa veramente veramente male e in Mirror è forte perché ritarda la cosiddetta combo perché la combo in Mirror vuoi comunque essere diciamo l'ultimo a farla cioè non vuoi farla immediatamente perché sei obbligato a devi fare però comunque il Borsalino infatti te la ritarda è una cosa molto molto forte e poi abbiamo gli altri character che mi mancano sono vabbè i Sabo che ho deciso di metterne due alcuni vogliono giocare la monocopia ho visto anche per esempio per Voge giocare la monocopia però io sempre per il fatto di giallo che non voglio perdere la giallo e Sabo è una carta contro giallo è troppo forte cioè ci sono degli spot che comunque se non vedi Sabo perdi cioè molte volte tu non vedi Sabo e perdi la partita se lui ti triga troppi pezzi ti fa troppa pressure e comunque tu magari non hai quel blocker immortale quindi vai sotto Damaru vai sotto a Thunderbolt sulla Rebecca cioè Sabo è quella carta che ti assicura che almeno se lui hai che ne so se hai una vita e lui hai due attacchi o se hai zero vite e lui hai due attacchi ma magari hai abbastanza counter in mano vinci quindi è una carta fortissima poi venta anche lui che due attacchi deve avere magari se non ha la mama ti fa due attacchi anche più piccoli quindi non devi avere nemmeno troppo counter power in mano però se anche se avesse la mama magari hai due counter in mano e quattro due cup è buono perché tu comunque di base contro Katakuri prendi sempre tutte le vite e quindi sei pieno di carte in mano solitamente si si ti fa sempre attacchi da sette usi Sabo ti filtra la mano ti peschi magari quei counter e tutto quindi è una carta fortissima Sabo ovviamente ti rende immortali motivo per il quale comunque il mazzo alla fine puoi giocare 8-2k cioè io soldatino l'ho messo però torna dietro non lo rimetterei perché quando inizi a giocare il mazzo veramente bene ti rendi conto che con 8-2k puoi starci non serve cioè non è obbligatorio avere l'altro non serve non è troppo necessario alla fine come vedi c'hai 5 blocker immortali 4 che non sono immortali ma ti permettono di fare removal e robe comunque forti che è la Rebecca quindi boh in quel caso non ti serve e poi comunque hai carte ovviamente con la Rebecca e l'ultima carta che ho la menzione roger l'ultima che manca che ti permettono di pescare dalla trash comunque di riciclare 2k di riciclare blocker immortali quindi molto molto forte sto parlando proprio di Mascheri che è la carta jolly del mazzo Mascheri per esempio è quella carta che si chiama Cusan 4 è una carta che appena inizi quando impari a giocare veramente il mazzo perfettamente ti rendi conto di quanto sia forte sia Mascheri che Cusan perché Mascheri mi ricordo che all'inizio quando stavo giocando il mazzo che lo portai a Parigi ma senza testing così sono andato ammortolando perché sono stato anche male la settimana mi ricordo che portai il mazzo e Mascheri la sera prima perché devo mettere questa carta è veramente scarsa non mi piace proprio io non la metto metto altri 2k oppure metto 2kaido carta che comunque non mi piace molto e invece in realtà Mascheri è una carta clamorosa perché risalva veramente tantissimi spot è quella carta che magari top deck ti fa vincere una partita ti fa recuperare partite ti mette in degli spot anche molto di vantaggio perché magari la piazza anche a terra e l'oppo te la deve ammazzare fa da blocker cioè fa tutto fa realmente tutto quella carta veramente molto molto forte sì sì che pagando solo uno ti fa pescare la carta che ti serve nel momento giusto secondo me Sakazuki ora non può giocare senza Mascheri cioè in questo momento Sakazuki senza Mascheri non può circolare e poi vabbè i ripartamenti del mazzo sono vabbè 6 eventi di riduzione che sono vabbè Great Erruption e le 6 fortissime Erruption è una carta che quando la vedi nel mazzo ti rendi conto che la stai vedendo perché il mazzo gira meglio se non la vedi non gira benissimo alcune volte perché magari se devi fare le riduzioni facendo un meno uno dalla mano non è bello invece per esempio Erruption ti permette di fare una riduzione pescando un'altra carta quindi cicli cioè tu riduci pulisci e non hai perso la carta dalla mano solamente il Remu quella che magari andrai a usare per abbinarlo Erruption e poi 6 gioco una carta fortissima pure ovviamente costo da un meno 5 cioè una abbinata come dicevo prima a Borsalino oppure anche alla combo spacchi la qualunque cioè è troppo forte quella cosa che ti permette anche di fare a 5 donne luce e i Sage sulla combo di Enel per spaccare home cane quindi è una carta veramente forte e poi l'altra è un Blaze che è l'altro evento costo 2 che è andato a Sakazuki in questo meta che comunque è uscito sono gli eventi del formato assieme ad Amaru ed è veramente veramente forte che fa tutto cioè comunque pompa pezzo quindi dà pressione rimuove cioè veramente è una carta senza un Blaze il mazzo probabilmente non sarebbe così forte infatti agli inizi è una carta che vedi sempre sì è una carta che comunque da peschi di Brennu poi comunque il leader di base è un effetto ovviamente ora parlando dell'effetto leader il leader è un effetto che ti fa tutto ti fa un meno 1 quando attacca in più trashi quindi cicli trashi una carta ne peschi un'altra cioè tu in base il mazzo si può briccare cioè se non le parti tu bricchi dico per esempio quello che ho raccontato prima contro Enel io dei due la prima della giornata ho perso perché ho briccato tantissimo cioè non ho visto il removal non ho visto il luce in quello spot lì perdo però comunque di base sfighi cioè sei sfortunato se succede perché comunque è un mazzo che veramente ha la probabilità dalla sua parte pesca e vede tantissime carte quindi per questo ha la consistenza pure dalla sua parte è un mazzo vede così le carte che di base in condizioni normali tu dovresti vedere x carte per metterti in posizione di vantaggio durante i due matchup quindi per questo è molto forte e poi per esempio il mirror è un matchup abbastanza skillato dipende come come build il mazzo come imposti il matchup però il mirror abbastanza skill cioè che comunque me ne sono accorto anche in top cut in top 32 me ne sono accorto che è skillare e anche gli altri matchup che ho avuto comunque gli altri cioè gli altri partiti che ho visto in mirror però ho visto che abbastanza skill gap puoi farlo puoi diciamo skill gap fare l'oppo però ovviamente ci sono quelle partite lì che magari non vedi troppi pezzi per fare pressione l'altro comunque per esempio liste che magari giocano il kaido vedono i counter 2000 infiniti quindi ti parano tutti gli attacchi e poi ti piazzano magari kaido doppio kaido con tante vite e la ovviamente perdi però il matchup cioè ripeto il mazzo se è giocato perfettamente non perde perde se ovviamente sfumita può succedere ovviamente che ci sono quelle partite che hai sfortuna e perdi non ci puoi fare nulla ti succede magari quattro volte in un torneo perdi quelle quattro partite ti rovini il torneo però comunque non andrei con un altro mazzo probabilmente cioè non sei andato con un altro mazzo a un torneo offline come quello poi magari online è diverso online magari non è il mazzo da giocare non so se lo giocherai troppo che comunque devi pensare perché è un mazzo cioè è un mazzo che comunque hai tante decisioni da prendere ogni turno cioè anche stupidamente anche a turno 1 quando sei a un don non devi fare letteralmente nulla però quando devi trasciare magari sbagli cioè tipo in quello spot lì sbagli magari una trasciata e hai perso cioè per quella trasciata lì poi ti ripercuota a turno 9 infatti è quello cioè già devi pensare sempre sulle trasciate e molte volte hai dei duplicati delle carte comunque doppie magari delle carte inutili in quel matchup e le trasci tranquillamente però altre volte invece carte comunque buone infatti non fa nemmeno l'effetto molte volte oppure lo fai però devi stare attento perché comunque l'abilità di trasciare è una roba non scontata che io fortemente l'ho masterata perché io ho già doppie due presi smoker e ho fatto anche i risultati comunque con smoker comunque è sempre diciamo mi è sempre piaciuto il colore nero e già comunque con smoker tu là ti trovi a fare quella roba di trasciare quindi devi sapere quella carta da trasciare magari quando sapi sakazuki per rimuovere un pezzo sbagliare a trasciare una carta è diverso quindi mi ricordo che giocavo anche a greater option io in quel mazzo perché comunque era l'unica carta che ti permetteva di pescare in quel in quel meta lì perché non c'era brand new e quindi ovviamente devi avere questo mindset abbastanza fissato col fatto del trascio pesco poi ovviamente rimuovo usando meno risorse possibili non butto tutta la mano perché se no perdo quindi sono ovviamente alcuni spot che devi cercare di risolvere nella maniera migliore possibile comunque ci vuole una grandissima concentrazione costo pazzo cioè in tutti in tutti i turni in tutti gli spot in tutte le decisioni che prendi ho visto che comunque a 3 don hai sanji pilaf ho visto che molti al posto di sanji magari mettono ina a costo 3 quella che ti permette di pescare una carta però vede allora la ina la ina ha un problema la ina ha solamente uno spot cioè quello lì quando tu sei a 3 donne giochi ina in quello spot lì probabilmente forse anche più forte di pilaf forse comunque perché metti un body a terra e comunque poi con un don dopo picchia dopo fai 5-5 magari metti un pezzo a 4 quindi comunque probabilmente in quello spot è forte però il problema è che la ina io ho testato tutte le carte ho testato la ur ho testato tutte le carte perché comunque ho fatto una testata con il mio team K2 giù in Sicilia e abbiamo testato comunque tantissime carte avevo testato veramente molto Sokazuki e niente la ina io se non la giocavo a 3 non la giocavo più contro zoro magari la giochi anche più in là però perché peschi una carta che contro zoro stai con poche carte però comunque non è che dici va incredibile capito cioè la giochi magari tipo a 6 donne a 9 donne per pescare ma cioè non è una roba proprio forte ce l'ho magari altre carte magari il lucci o altre robe che usando pilaf ci arrivi prima e invece pilaf comunque oltre ad avere lo spot a 3 donne ha molti altri spot che non rivelerò che sono segreti cioè senza ovviamente abbiamo uno di testa di testa ha veramente tantissimi spot dove è fortissima come carta cioè io mi ricordo io la cosa che mi ha imprestiato per esempio l'altro giorno sabato ho fatto un local che ho chiuso 5-0 e lì comunque pur dopo Utrecht comunque ho fatto un torneo che ho fatto per 30 partite in due giorni tipo in quel tono là ho trovato un altro spot fortissimo di pilaf ho detto ce lo vedi comunque il mazzo non è uguale non è monotono a me il mazzo diverte troppo perché non è mai monotono ce lo giochi e hai sempre toni difficili devi risolvere sempre situazioni devi pensare non sono non è automatico cioè sì alcune volte magari entra automatico perché vedi tutto però sì vedi le carte giuste nel momento giusto pensare anche lì che magari devi pensare ai toni dopo cosa ti può giocare lui quindi c'è sempre sempre un pensare proprio sempre l'ho Red Green e comunque l'ho giocato abbastanza che era uno dei miei mazzi preferiti che ho vinto anche un seriale a Lione alla 3v3 con Rello con Pastorello e con Giovanni con l'altro mio compagno di team con Giovanni Oliva e comunque per esempio l'ho l'ho anche masterata abbastanza come mazzo si può giocare molto bene e però c'erano alcune volte dovevo ammettere che proprio cioè ti mettevi lì ti sedevi fum autopilot cioè picchio 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 cioè c'erano delle volte che tu andavi proprio in autopilot totale con l'ho ed eri fortissimo invece con Saka cioè comunque non ho proprio quell'impressione che mi sento boh sono in autopilot sono troppo troppo sentirti forte col mazzo ti senti però non che dici vado in autopilot tu comunque devi pensare sempre i turni perché ti ripeto quando fai rimozioni picchi devi sempre pensare se queste sono comunque troppe risorse o queste sono poche devi tenertele magari per le minacce grosse dell'avversario poi in late quindi devi pensare in ogni spot con questo mazzo non è brailless non è molto facile stavo testando un po' P6 che dicono ah con Moria diventa brailless di qua e di là ma in realtà non mi sembra tutto sto brailless perché Moria Moria Leader è molto più brailless però Saka Leader non è non è così stupido cioè non è così brailless anzi mi è sembrato il deck building che comunque si dovrà vedere perché già sto pensando delle varie build stavo pensando un po' di cose anche alcune carte che per esempio vedo che si giocano in Asia un numero di copie X io già ho visto magari che alcune su me potresti anche ometterle diminuirle metterne magari in più cioè ci sono dei cambi che su me vanno fatto dipenderà anche dal nostro meta però non mi sembra così scontato come mazzo no io onestamente non ho ancora non ho ancora testato Saka Zucchio P6 quindi non non saprei perché ovviamente P5 farò Saka poi purtroppo solo un torneo online ne avrei voluto fare di più però c'è solo un torneo online per il fatto non sono entrato di rate and trade quindi niente già sto vedendo però P6 ok ti faccio un'ultima domanda riguardo al mazzo cosa ne pensi di ulti costo 4 che ti fa pescare una carta assoluta ulti costo 4 ho beccato un mirror sull'8-1 che la giocasse non so se poi è entrato in top lui alla fine mi ricordo la giocava invece il Kuzan 4 follia cioè perché non è che questa carta prende tipo lo spot di c'è lo anche qua davanti dall'altro la carta prende lo spot di cioè se la devi giocare prende lo spot di Kuzan 4 no io non esco di casa senza Kuzan quindi cioè in questo meta qua non esco di casa senza Kuzan poi vabbè in OP6 magari da capire contro Giallo probabilmente ci vinci senza metti Moria è forte quindi probabilmente non ti serve però cioè ora non è la ulti è un po' un bait non la vedo cioè è forte come carta per carità comunque anche counter non è scarso non ha un effetto scarso però se devi togliere i posti a Kuzan guarda non non gli toglierei quei posti quel posto a Kuzan anche perché comunque il mazzo è molto stretto cioè è difficile trovare spazi per carte nuove cioè noi quando abbiamo testato veramente dicevi io vorrei avere in questo mazzo 52 carte così metti 10 2k e 3 pilaf perfetto però purtroppo se non le puoi giocare potessi giocare quando ti manda 2 carte farei 10 2k e 3 pilaf però non lo puoi fare e quindi perché è proprio difficile cioè quando ci manda 2 carte è proprio difficile mettere tutto eh sicuro sì devi riuscire a farci stare tutto cioè che poi vedo appunto che non usi manco il Kaido ma perché forse il Kaido non ti piace proprio più il Kaido è una carta su me che è un bel bait cioè perché in Europa è arrivata quella cosa del non si sa come perché in Asia non lo faceva nessuno Enel Starve che secondo me cioè da giocatore di Enel mi sembra veramente una cavolata cioè giocatori di Enel che hanno deciso sta cosa di iniziare a fare Starve su Stagazuki mi sembra proprio una roba stupida perché se ti giocavano il Kaido Starve vuol dire non attaccare cioè non attacchi mai vita pulisci con Gedazza la board poi arriva il momento magari che hai 9 donne e inizi ad attaccare però lì io ti pezzo Kaido 10 e hai perso cioè concedi quindi ovviamente non ha senso e se l'altro comunque magari non gioca Kaido 10 ma gioca i Pilaf perdi lo stesso perché io mi faccio comunque la mano con i Pilaf ti aggro mi faccio la board e hai perso quindi secondo me sta roba del un picchio oppo da giocatori di Enel mi è sembrata veramente una cosa che non ha avuto senso di esistere infatti giustamente i giocatori di Enel intelligenti hanno smesso di fare questo e si è montato un Enel che a mio modesto parere è molto più forte che con lo Starve di prima cioè l'Enel Rush con Enel Rush comunque anche i Katanici alcuni giocavano va molto più aggro ed è quello che devi fare contro Sakazuki non puoi giocare Starve se non è proprio punto se giochi Starve magari ti vedi 4 Yamato ti vedi il playset io ovviamente magari non vedo Pilaf non gioco il Kaido perdo però comunque la devi giocare che l'altro non gioca il Kaido che l'altro non gioca i Pilaf cioè insomma non vale la pena ovviamente non ne vale la candela di fare questa parpa di Starve e poi il Kaido quindi in generale ti dico giochi i Pilaf non ti serve Kaido Kaido è solo quello è solo quel matchup invece Pilaf ti serve in tutti i matchup cioè è forte in qualsiasi matchup come carta il terreno invece hai avuto modo di testarlo e il terreno mi si chiama Marineford ah lo sport non mi si chiama non è Marineford Marineford forse sì sì forse Marineford quello che toglie il costo ogni turno sì l'abbiamo provato monocopia così però eh sì monocopia ho avuto qualcuno che me lo giocava mi sa che il Mirror che ho beccato in top 302 lo aveva monocopia me l'ha giocato pure però meno 1 di costo che non è necessario secondo me che fai a turno magari ti dico è forte quando lo metti di turno perché fai meno 2 in quel turno non è una cosa fondamentale per il mazzo parliamo sul discorso degli spot nel mazzo che comunque non ci sono quindi quella carta non è molto molto tenso ok bene io non ho più domande da farti sei stato molto chiaro anzi sei stato molto utile per tutti i giocatori di Sakazuki me compreso e ti ringrazio per questa bellissima intervista e sono contentissimo di aver avuto l'occasione di di averti avuto qua per intervistarti e non vedo l'ora di pubblicarlo infatti adesso questi giorni poi mi metterò lì pubblicherò il video e spero spero di intervistarti ancora un'altra volta quando andrò a mondiale eh sì a voi è un piacere sempre lo sai è un piacere per me mi fa piacere che stai andando molto bene in questo gioco in tutti i tornei che stai facendo stai facendo sempre degli ottimi risultati grazie davvero complimenti perché non è non è non è semplice comunque fare un risultato del genere e non solo uno perché comunque ne stai facendo veramente tanti sono contento ti ringrazio per questa bellissima intervista e quindi ragazzi per questo video è tutto ringraziamo ancora Nino e ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao ragazzi ciao ragazzi